Primi ciacca a San Nicola Arcella per la fiction, la famiglia Johnny. Da lunedì scorso infatti sono cominciate le riprese della sitcom che vede protagonisti Tosca d'Aquino, Max Piso e John Peter Sloan, una serie televisiva che diverte e che educa, come ci spiega Maria Teresa Carpino, produttrice della fiction. Abbiamo una famiglia italiana che attraverso una notizia che stravolge la famiglia perché il papà viene ad apprendere che deve trasferirsi negli Stati Uniti, deve accettare una tata, una tutor in casa che insegna alla famiglia la lingua inglese e quindi è un prodotto educativo che è stato prodotto in collaborazione con la De Agostini. E poi c'è l'incontaminata bellezza di San Nicola Arcella, location che da subito ha affascinato la Carpino. A San Nicola abbiamo avuto l'onore di conoscere il sindaco Barbara Mele che ci ha accolto come non ci aveva accolto nessuno e quindi abbiamo deciso di girare quasi tutta la fiction qui a San Nicola, anche per la bellezza del posto che veramente merita. Un padre burlone, una madre ingenua e un leader intelligente e intransigente. Queste le figure principali della fiction interpretate da Max P su Tosca d'Aquino e John Peter Sloan. Io faccio secondo me un capo intelligente. Secondo me il capo intelligente non è uno che tratta male i dipendenti. Uno è capo intelligente, si fa rispettare, però è disponibile, apprezza quello che fanno le persone. Sono un papà bambino, una specie di Peter Pan che combina guai, che naturalmente è una sitcom, è comica, quindi cerca di dare comicità a questo corso di inglese che tra l'altro è molto molto utile per imparare l'inglese, per avvicinarsi all'inglese. Una mamma molto divertente, molto comica e guarda mi diverto molto a farla perché lei non comprende mai le situazioni e allora che ne so ci sono quintali di valigie da trasportare, lei sempre leggera, hai capito amore, le valigie le prendi tu, che so i ragazzi, i figli fanno delle cose tremende, ragazzi forza. Alla fine secondo me i figli vorrebbero avere una mamma così svaporata. Buon divertimento a tutti quindi e un saluto speciale ce lo concedono Max Pisu e John Peter Sloan, proprio l'attore inglese, non ha mancato di sottolineare la bellezza delle ragazze nostrane. Guarda quella, guarda quella, guarda quella, c'è Milano, è fidanzata, capito, perché lui è colpito dalle ragazze calabrese, mamma mia, e non si toglie dalla testa, quindi io faccio, io voglio sposarmi un calabrese, un calabrese, hai detto un calabrese, vedi quanto è importante la lingua, basta una consonante o una vocale, cambia tutto. Io faccio un appello, c'è un inglese qui.